Eccoci qui, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, 7.09, martedì 30 aprile, qua per raccontarvi un po' quello che succede a Milano. Chi siamo noi? Questo è Good Morning Milano, tutte le mattine, in diretta su Crystal Radio e su Milano News. Ci potete vedere su Milano News o ascoltare invece su Crystal Radio e soprattutto ci potete ascoltare ovunque voi andiate, perché con Crystal Radio siamo nell'FM, nella vostra struttura radio FM in Milano, con il DAB Plus in tutta la Lombardia, ma poi c'è la app di iOS Android o il sito internet che potete portarvi dove volete. Cioè non so se siamo noi che veniamo da voi o siete voi che ci portate, è quello che decidete voi chi è, chi porta chi. Voi ci portate in giro, siamo noi che veniamo con voi, vivete quello che volete. Questa è il fatto che noi ci siamo nella vostra tasca, nel vostro smartphone, con l'applicazione di Crystal Radio oppure con il sito internet crystalradio.it. Oggi giornata del martedì 30 aprile, giornata prefestiva, domani è festa, domani è festa il primo maggio, domani non saremo in onda, domani molti di voi non andranno a lavorare, quindi domani mattina dormiremo un po' di più, riusciremo ad essere un po' più addormentati durante la giornata, ma potremmo permettercelo. Noi invece stamattina no, e quindi dobbiamo svegliarci, non possiamo permetterci di rimanere addormentati questa mattina perché dobbiamo andare, fare, disfare, come si dice, fare, disfare e tutti non lavorassi, dice Milano. Ok, e allora iniziamo con la musica. Perry, forget about us, 7 e 14 minuti, siamo qua. Oggi 30 aprile, ultimo giorno di aprile, e ce lo ricorda anche Alberto al 3317853555. Un saluto a Fabio e a tutti i cristallini, non sembra vero ma è finito anche aprile. Ebbene sì, domani primo maggio e quindi buona festa dei lavoratori a chi lavora, a chi ha lavorato e a chi lavorerà. Bello, bell'augurio, mi piace. Poi mi piace sempre l'ottimismo di Alberto, ma in realtà è pragmatismo, attenzione, non confondiamo le cose, perché dice, a giovedì quindi, e preparate l'ombrello, ecco. E sì, perché sembra che verso fine settimana ritorni il brutto tempo, quindi attenzione, fermi, non usate il primo maggio per fare il cambio stagione, non fatelo ancora, fatelo il weekend dopo. Così, vi do questo consiglio, non fatelo ancora. Fermi lì, non aprite gli armadi, non aprite i... non svuotate dal sottovuoto i sacchetti, perché siete quei sacchetti che mettete sottovuoto, anche se la domanda è, se voi mettete le robe nel sacchetto sottovuoto, credo che la prima cosa che ha da fare è prenderli e lavarli, credo, perché sono tutti stropicciati, penso sia così, non lo so, io non ce li ho i sacchetti sottovuoto, cioè se non per il piumone, ma chi se ne ferga il piumone. Ma se mettete i vestiti nel sacchetto sottovuoto, cioè se tirano fuori, prima cosa da fare credo sia lavarli e poi stirarli, credo, perché saranno tutti stropicciati. Penso, non lo so, dopodiché ricordo sempre che se lavate bene, ma soprattutto se stendete bene, si può non stirare, io ho una vita, sono 40 anni che non stiro, quindi ci mancherebbe. Però giustamente Alberto ci ricorda di preparare l'ombrello, perché i giorni belli, quindi se dovrebbe funzionare tutto bene, già domani forse non sarà proprio una giornata illiaca, ma sembrava che poi nel weekend arrivi brutto tempo. Io c'ho una cena, cioè se non c'ho un pranzo sabato in cortile, come faccio? Cioè con i cugini del Brasile, come faccio a fare... niente, sono tutti in casa. Questi arrivano da Brasile, sono abituati al sole, al caldo, Bahia e compagnia cantante, e io li devo chiudere in casa perché piove al 2, 3, 4 di maggio a Milano. Ma come va? E poi dite che non c'è che è un momento climatico, e vabbè, lasciamo stare. Quindi vi ricordo, non fate ancora i cambi armadi, comunque. Stavo leggendo una notizia, magari dopo la approfondiamo un attimino, da Repubblica Milano, sui tram ATM, autobus e tram ATM. Il titolo dice, una corsa a ostacoli per tram e bus tra gli incagli e degli incivili. La maggior parte dei rallentamenti e delle deviazioni dovute a chi parcheggia male l'anno scorso 2.700 di stop forzati, con il record di uno durato 9 ore. Poi ne racconta un altro che dice, appunto, un tram inchiodato in via Venini, due ruote di un'auto parcheggiata occupano i binari e lo bloccano. L'uno resterà fermo 7 ore 10 minuti, da tarda mattinata al primo pomeriggio inoltrato. Dietro, code, ingorghi, altri nienteviati, disagi. È stato il caso record lo scorso autunno delle interruzioni dei mezzi pubblici di ATM per colpa della sosta selvaggia e distratta. Nel 2023 ATM ha dovuto gestire 2.760 eventi per interruzioni di pubblico servizio con una media di quasi 8 interruzioni al giorno. Ci sono 8 volte al giorno 8 interruzioni di linee perché posteggiate di... Ecco, avete capito? Cioè, quando mettete giù le macchine, le vie dove si passano i tram, date un occhio. Sono punti tram, perché gli autobus magari un pochino più... Perché poi non è detto. Perché se l'autobus non riesce a fare la curva e si incaglia è la fine. Però, 2.760 eventi. Cioè, pensate, nel 2022 hanno stati 1.277, adesso invece 2.760 eventi. Insomma, non male, direi... Cioè, 1.900, non no, prima, insomma. È sempre così. Andiamo a sentire invece il traffico, come se c'è qualche problema anche oggi. E facciamocelo sto giro nella testa della cosa rappresentante di lista. Rappresentante di lista, paradiso, la nuova della rappresentante di lista. E andiamo avanti con le notizie, perché abbiamo parlato dei tram fermi con le auto che si mettono male. Quindi, 2.000, quanti erano? 2.000 passa... 2.760 gli eventi, appunto, che hanno bloccato o deviato le linee dei tram degli autobus nello scorso anno. Pensate che poi, sul tuo stesso tema, meglio, cioè su sosta selvaggia e problemi, sempre da Repubblica Milano leggiamo Auto, ogni giorno 80 rimozioni di veicoli per la sosta selvaggia, ma le richieste sono centinaia. Nel 2023, oltre 31.000 mezzi portati via, in aumento rispetto agli anni passati. Sono 21 i carri attrezzi in servizio a rotazione che coprono tutte le 24 ore della giornata. 80 rimozioni di veicoli, cioè, ogni giorno. E richieste che superano il centinaio. Cioè, pensate voi, come siamo bravi a posteggiare. Ma soprattutto quello che vi dico è se c'è la rimozione, vuol dire che la macchina è mollata e lì si è andato via. Perché non è quello che lascio lì, cioè, allora, io li odio, eh. Odio viscerale per chi molla la macchina lì. 5 minuti e vado giù, prendo il caffè e vado via. Prendolo a casa, oppure vai a piedi al bar. Cioè, non è che devi mollare la macchina lì. O una volta, ero uguale, compro il giornale e vado. Eh, sposta la macchina in più avanti, vai a comprare il giornale, non è quello. Però vabbè. Faccio scendere la nonna, faccio scendere la zia, devo tirare giù una roba dal... Aspetta che devo caricare sulla macchina un attimo. Vabbè, quelle robe lì ci possono stare, però sei lì. Rimozione forzata. Se c'è la rimozione forzata, se ti portano via la macchina, vuol dire che tu hai mollato la macchina lì, in una maniera alquanto discutibile, sarebbe da dire, e te sei andato. Anche per un po'. Perché se, cioè, ora che arrivano i vigili, vedono che sei lì, fanno la contravenzione, chiamano il carattrezzi, questo riesce ad arrivare perché non è impegnato a fare 80 altri controlli, cioè, eh, le mollate lì così. Vabbè, comunque. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp, arriva il nostro re dei luoghi comuni, Nello, che ci dice, con questo tempo non si sa, non sai, scusate, con questo tempo non sai più come vestirti, però devo dire che Nello, no, sarà il re dei luoghi comuni. Però c'ha sempre ragione, cioè, tac, li becca, sono così, sono colpi di coda dell'inverno, sì, è vero, questi colpi di coda però hanno un po' fiori. Comunque, va bene, poi ci scrive anche, buongiorno, non Nello, qualcun altro ci scrive, buongiorno da quella di Bergamo, buongiorno Bergamo, Stamattina sono sveglia per puro caso, ho la faccia scomposta a causa di una nottata trascorsa al PC per ultimare dei lavori, però bella nottata, ore dormite totali tre, complimenti, di cui una dormita sul tavolo con la tastiera del PC come cuscino, beh, deve essere, ti ha stampato le lettere sulla faccia molto probabilmente, quindi, eccolo, il famoso faccialibro, eccolo lì Facebook, quando ti appoggi e ti scrivi, ti imprimi un libro sulla faccia, dico solo che poco fa stavo per mettere il roll-on del contornocchi sotto le ascelle, buongiorno, buongiorno a te, non so cosa sia un roll-on del contornocchi, però non credo sia un trucco, giusto Elisa, chiedo a Elisa che sicuramente non avrà bisogno di niente, perché è così splendida al naturale, però Elisa, cos'è un roll-on del contornocchi, quello per le occhiaie, cos'è? Non è un trucco? No, è una cosa che... Ah, ok, perfetto, ho chiesto... Chi tu ovviamente non usi, però con quegli occhi splendidi con cui ci illumini la giornata, mamma mia che bravo che sono visto, comunque devo tenerla buona, non mi passa agli ospiti quelli buoni, quindi... Ah, c'ha su le cuffie, mi sta sentendo, bene, un saluto allora a Elisa Galmarini, sempre che ci segue tutte le mattine con la produzione di questo programma, stamattina tutti siamo orfani, io e Elisa, perché la nostra regista Maria oggi non c'è, quindi saremo tutta la mattinata insieme solo io e te, Elisa, contenta? Bene, si dice di sì della regia. E allora andiamo avanti invece con la musica, E come fai, come fai a entrare su Impressioni di Settembre da premiata Furneria Marconi? Eh sì, la PFM con Impressioni di Settembre, beh, se è vero che non ci sono più le mezze stagioni, allora io posso tranquillamente mettere Impressioni di Settembre il 30 di aprile, anzi, grazie all'Ufficio Programmazione, grazie a questo momento che ha anche sortito i suoi effetti anche nei WhatsApp che sono arrivati, perché ci scrive Adriana al 3317853555. Buongiorno, come siamo nostalgici stamattina? Eh sì, questa, devo dire che quando parte Impressioni di Settembre, ma come si fa a rimanere fermi su quella solo? così, no, cioè, come fate, come fate a non capire la grande, anzi, anzi lo capite, infatti, cioè, è universalmente riconosciuto come una delle canzoni migliori della storia, secondo me, Impressioni di Settembre, qualcosa fantastico, stavo leggendo un po' di notizie, cioè di notizie, di storielle e storie intorno a questa canzone, la PFM appunto l'ha fatta in anni in cui erano molto in voga anche i Crimson, i King Crimson, i Genesis, gli Yes, insomma c'era questa psichedelia legata anche a un onirico, arrivavano da un disco, pensate, si chiamava La carrozza di Hans, Hans era il principe dei sogni e dell'inconscio, no, che aveva inventato appunto all'interno, diciamo, del mondo dei, come si chiama, della PFM, l'aveva fatto Mario Pagani appunto, l'ha scritto anche quello, comunque, vediamo cosa scrive Nello, credevo fosse il programma di Ambrogio, e invece no, invece no Nello, siamo ancora a Good Morning Milano, non era ancora, non era ancora, senti questa con Ambrogio Cluti che verrà dopo di noi, ma invece eravamo noi, ogni tanto insomma, anche noi riusciamo, grazie all'ufficio programmazione, ad avere grandi canzoni, ah ecco, mi arriva anche un suggerimento, dopo che ho fatto appunto, l'assolo, questo qua no, ok, 3317853555, Erika ci scrive, buongiorno Fabio, ma non mettere più canzoni, cantale tu, buona giornata, no, magari no, io faccio gli assoli se volete, faccio gli assoli, faccio la chitarra, ma di più non vado, anche se quella non è una chitarra, ma credo sia un organo, un piano Hammond se non sbaglio, o un minimug per quelli più tecnici, però va bene, questo momento nerd lo chiudiamo qui, anche se davvero ci sarebbe da dire tantissimo su Impressioni di Settembre, perché è davvero una di quelle canzoni che, boh, cioè segnano un'epoca, ma poi te li porti avanti, e soprattutto non c'è un Settembre nella mia vita, in cui non ho ascoltato Impressioni di Settembre, metterlo al 30 di aprile, con la scusa che il tempo va al tempo viace, devi trovare una scusa, sono quelle canzoni che trovare una scusa, tipo 29 Settembre, che è un'altra canzone bellissima, quando mai la potete ascoltare durante l'anno? Mai, soprattutto in radio, non te la mettono mai, anzi dopo la metto, guarda, dopo la metto, va bene, adesso faccio due chiamate con l'ufficio programmazione, dopo se vi va metto il 29 Settembre, ditemi voi se mi va, è un Moog, vedi ecco, mi dice Nello al nostro Whatsapp, che è quello che della Solo, che non vi rifaccio, ma quello lì l'avete capito, è un Moog, infatti, che è una sorta di, adesso, chi l'ha inventato mi ucciderà, ma è una sorta di pianola, ma che ha a che fare con l'elettronica in synth, credo, cioè una cosa del genere, ci sono delle onde, tu puoi andare a lavorare sulle onde, poi quando schiacci i tasti, i tasti emettono un suono, che non è il classico pianoforte, o tastiera musicale classica, ma è un'onda, poi c'è il pitch, che puoi alzare, abbassare, per aumentare, diminuire la tonalità, e anche la velocità, dell'oscillazione, una roba super tecnica, tra parentesi, proprio, credo sia l'inizio, il Moog, credo sia uno di quegli oggetti, che fanno iniziare, poi la grande musica elettronica, poi comunque, qui lascio invece la palla, a chi queste trasmissioni, le fa veramente, tipo Ambrogia, mi hanno sentito prima, era Mauro Pagani, appunto, che raccontava, e suonava il Moog, in questa canzone, ce lo ricordo appunto Nello, grazie mille, ma ascoltate quelli bravi, è Nello, Ambrogio Occuruti, così ne sanno molto più di me, io riporto e basta. Questo era Blanco, con l'Isola delle Rose, l'avete visto il film, l'Isola delle Rose, è uscito nel 2022, si chiama L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose, credo lo trovate su Netflix, se non sbaglio, e parla di questa isola, che era stata costruita, isola artificiale, costruita a largo di Rimini Riccione, cioè lì davanti, appena fuori, credo dalle acque nazionali, in acque internazionali, credo, qualcosa del genere, perché poi in realtà, vabbè, poi non ve lo racconto, se volete andare a cercare la storia, che è una storia vera, pensate, è una storia vera, che porta poi tutta una leggenda con sé, il film è molto bello, con Elio Germano, questa parte appunto, fa parte, questa canzone fa parte della colonna sonora di quel film. Abbiamo parlato appunto di Impressioni di Settembre, di la canzone che è difficile mettere fuori stagione, ma ci sono delle canzoni che non puoi metterle in certi giorni, anzi, in realtà, ecco, ho sbagliato, avrei dovuto metterla ieri questa qua, invece, perché è 29 settembre, allora, ieri al 29 aprile potevo fare un gancio su quello, però insomma, non si sa mai. Adriana ha visto il film, Adriana ha visto il film L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose e ci dice, film super carino, non sapevo nulla della storia dell'isola, geniale, sì, no, è una storia vera, andate a vederla, ma se cercate su Google L'Isola delle Rose trovate anche proprio la storia originale, c'è una bella pagina su Wikipedia che la spiega molto bene, dateci un'occhiata perché è davvero molto molto interessante, il personaggio è un personaggio un po' particolare, quello che l'ha fondata, proprio la che l'ha costruita, insomma, andate a leggere un po' di cose e poi c'è anche retroscena che nel film non ci sono, ma comunque va bene, c'è la storia molto molto piacevole del film, andatelo a vedere appunto l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Infatti, ecco, dicevo proprio, ecco, mi ricordo adesso Adriana che appunto per via dell'Isola delle Rose il confine delle acque internazionali fu poi quindi spostato appunto per fare in modo che non potesse succedere qualcosa del genere. Parlavo appunto delle canzoni che non si possono mai ascoltare il fuori stagione, 29 settembre è una di quelle, ma ho fatto una contrattazione con l'ufficio programmazione e ce l'abbiamo, è proprio qui con noi. Ascoltiamo l'Equipo 84 con 29 settembre. Oggi, martedì 30 aprile, ci ascoltiamo, 29 settembre, ebbene sì, erano l'Equipo 84 con 29 settembre. Sapete che, allora, prima di tutto, uno, non dedicatela mai a qualcuno che amate, perché non so se vi siete mai accorti dal testo, racconta di un tradimento, in realtà. La storia è quella di uno che si ritrova il 30 settembre a dire, madonna, ma cosa ho combinato ieri, ho tradito. Cioè questo, questo sta a dire. E poi dice, vabbè, adesso torno a casa da te, perché senza di te non posso vivere. Però il concetto è quello, quindi attenzione a dedicarla magari a fidanzate, mariti, mogli, o cose del genere. State attenti, perché non è proprio la canzone migliore da dedicare. Inoltre, c'è un telegiornale che si sente all'inizio, oggi, 29 settembre, nella ricorrenza del, il pezzo di telegiornale è finto. Cioè i due pezzi che dopo dice anche oggi, martedì, oggi, 30 settembre, ecco, quei due pezzi sono registrati apposta così per dare un'idea più di reality alla canzone che nasce proprio da quella necessità. Mogol Battisti la scrivono, questa era l'edizione poi fatta per l'Equipo 84, ma Mogol Battisti la scrivono proprio cercando di trovare una questione diciamo storica. Cioè loro volevano mettere nell'io, nell'ogico, ma che si dice nel qui e ora, ok ecco, e quindi permettano il qui e ora hanno bisogno anche di questa escamotage, quindi dargli una data ben precisa, quindi creare una storia che sia collocabile nel tempo in due giornate appunto, nel 29 e nel 30 settembre e poi questa escamotage che c'è solo nella versione dell'Equipo 84 perché nella versione di Battisti non c'è, del telegiornale che apre e dà le notizie e dicevano oggi, il 29 settembre è il giorno della commemorazione e poi non si capisce di che cosa ma poi sfuma e va via quindi insomma infatti il giornale radio appunto il banal momento della registrazione era privo anche di titolo gli fu dato dopo l'inseguimento della voce del giornale radio appunto stavo leggendo adesso qui anche da Wikipedia 2-3 notizie in più inizialmente non si chiamava il 29 settembre poi dopo quando hanno messo l'idea del giornale radio dentro e quindi hanno fatto insomma questa storia che ricordiamo sempre è una storia comunque di tradimento quindi non state proprio a regalarla in giro a tutti quanti cioè ecco magari non dedicatela ai vostri amati ecco e invece andiamo avanti con la musica adesso andiamo ad ascoltarci una che insomma ogni volta che fa qualcosa lo fa diventare oro so parliamo di Beyoncé che sappiamo veramente c'è una regina indiscussa della musica ma che davvero ogni volta che fa qualcosa lo fa diventare oro tanto da potersi permettere di fare una canzone country diventare la canzone country fatta da un'artista femminile più venduta nel mondo o meglio in più alta posizione in classifica scusate non più in tutto il mondo alla faccia di Dolly Parton mi viene da dire nelle classifiche non country cioè questo è un suo punto il concetto è stato che Dolly Parton grande regina del country però rimane diciamo lì nel country invece Beyoncé riesce a uscire dal canone diciamo dal mondo del country ed entra nelle classifiche mondiali appunto con questa Texas Old M che è la canzone più in alto in classifica fatta da un'artista di genere country però e questa era Beyoncé con Texas Old M e quindi va bene dai grazie ancora ad Adriana che ci saluta perché è arrivata al lavoro Queen Bee regna sempre e comunque buona giornata Queen Bee è appunto Beyoncé che abbiamo ascoltato con Texas Old M alle 7.54 minuti poco prima di andare in pausa andare in pausa con il nostro giornale radio e poi ritrovarci qui oggi parliamo di una roba Adriana mi spiace che ci saluti perché parliamo di una cosa che so in altri messaggi che ci hai mandato me lo ricordo questa cosa parliamo di Too Good To Go che so che molti di voi utilizzano perché pensate festeggia 5 anni in Italia eh sì dal 2019 salvati oltre 18 milioni di pasti ma ne parliamo dopo bene perché insomma è una cosa interessante per quelli che non la conoscono ma la conoscono tutti ma soprattutto è interessante capire con appunto Too Good To Go quali saranno i temi del futuro per lo spreco alimentare per quello il tema principale andiamo con la musica adesso ancora Dua Lipa Training Season e sul sax The Changes di David Bowie rientriamo dopo il Crystal History delle 8 di oggi martedì 30 aprile sempre qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM e anche le applicazioni non dimenticatele per app per iOS e Android e anche il sito internet crystalradio.it oppure lo sapete dopo la diretta potete riascoltare e rivedere tutto su goodmorning.milano.it 8.08 in questo istante iniziamo con i nostri ospiti di oggi iniziamo a dare il benvenuto a Filippo Ferrari PR Manager Italia di Too Good To Go buongiorno Filippo buongiorno buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito di questa mattina ben ritrovato grazie a te di essere qui con noi perché oggi appunto festeggiamo il compleanno l'italico compleanno di Too Good To Go 5 anni in Italia sembra ieri quando lo sapete non so se Filippo devo dire confesso che non mi ricordo se eri tu o qualche tuo collega ma 5 anni fa quando siete arrivati siete venuti qua a raccontarcelo a Milano News e adesso siamo ben contenti di essere ancora qua dopo 5 anni a fare un bilancio interessante dell'operazione anche a livello diciamo sociale che avete fatto proprio per il salvare dei pasti che andrebbero se no persi giusto? assolutamente guarda ti confermo innanzitutto che non ero io ai tempi probabilmente era qualcuno che c'era prima di me però sì diciamo che abbiamo celebrato da poco questo importante anniversario per noi in Italia dei 5 anni come dicevi giustamente tu siamo arrivati nel 2019 ed è stato un lungo percorso che ci ha portato ad oggi ad arrivare a contribuire a salvare insieme alla nostra community fatta da 9 milioni di utenti oltre 26 milioni di partner circa 19 milioni di pasti quindi vuol dire un grande impatto generato in questi anni calcola che di questi 19 solo 6 li abbiamo salvati nel 2023 quindi vuol dire che diciamo l'utilizzo e diciamo l'impatto che siamo riusciti a generare è stato esponenziale nel corso degli anni fino ad arrivare appunto ai numeri che ti dicevo all'interno di questo scenario diciamo brevemente cosa è Too Good To Go per quanto come si dice in questi casi non serve una presentazione ma qualche distratto c'è esatto giusto per dare qualche informazione maggiore quello che si occupa di fare Too Good To Go è cercare di ispirare e responsabilizzare le persone per contrastare lo spreco alimentare insieme e lo fa grazie alla principale soluzione che è la nostra app quindi che tutti possono scaricare possono avere sul telefono grazie alla quale compiere dei gesti concreti e semplici come salvare del cibo grazie alla nostra app vengono messi in connessione i negozi e tutti quei pensiamo ad esempio negozi di vicina supermercati che hanno potenzialmente del cibo in venduto con gli utenti che lo possono salvare a un prezzo vantaggioso quindi diciamo chi ci piace raccontarla come una soluzione win-win-win nel senso che è vincente per i ristoranti per i partner per i negozi che hanno la possibilità di andare a ridurre quelli che sono i loro sprechi per gli utenti che hanno la possibilità di compiere un gesto concreto salvato dal buon cibo ancora buono a un prezzo vantaggioso e per il pianeta perché insieme si riduce lo specchio alimentare un tema che come penso sai tu e sanno i gli ascoltatori sta diventando sempre più centrale sta diventando sempre più una necessità da affrontare calcoliamo semplicemente ad esempio ti do qualche numero per darti un'invenza di quella che può essere la portata del fenomeno circa il 40% di tutto il cibo che viene prodotto nel mondo annualmente viene sprecato questo comporta una perdita economica di 1.1 miliardi di dollari e lo spreco di cibo è responsabile del 10% delle emissioni nella sera quindi questo per farti capire a livello sociale economico ambientale l'impatto di questo fenomeno e perché per noi di 2go2go è così importante andare a contrastarlo ecco ed è vero appunto che siamo ammazzati di dati macroscopici dati che hanno a che fare con tutto il mondo poi però nel nostro piccolo si può fare qualcosa e questo piccolo a Milano lo si può fare con la nostra piccolissima bag lo possiamo fare appunto con 2go2go Filippo rimandi qui con noi andiamo con un po' di musica ma poi torniamo ancora a parlare perché voglio capire appunto su Milano come va la situation e poi sono appunto 5 anni quindi insomma ormai siete maturi cosa è cambiato in questi 5 anni insomma rimanete con noi che parliamo ancora di 2go2go dopo i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere alle 8 e 12 minuti Good Morning Milano Pinguini Tattici Nucleari Pinguini Tattici Nucleari con Ridere e non si ride anzi si festeggia però perché insomma sono 5 anni in Italia di 2go2go lo stiamo parlando con Filippo Ferrari PR Manager Italia e Filippo insomma Milano invece come ha risposto in questi 5 anni e quali sono le attività secondo avete sicuramente dei dati quindi quali sono le attività maggiori che ci sono iscritti appunto nella città di Milano perché ricordiamo che le attività si iscrivono all'app e poi a quel punto possono dare il loro cibo che non vada sprecato lo possono dare ai cittadini giusto funziona così esatto guarda sicuramente Milano secondo quello che abbiamo registrato è tra le città più attive ad oggi in città grazie a utenti e partner abbiamo contribuito a salvare dal 2019 oltre 1.600.000 pasti contando oltre 1.200 partner è un pasto Filippo è un pasto a testa più o meno siamo quasi 1.400.000 abitanti Milano quindi diciamo che è un pasto a testa ce la siamo salvati per la media tutti noi abbiamo salvato un pasto bene sono contento quindi come ti dicevo contiamo circa 1.200 partner attivi in città che vanno dai grandi supermercati dalle grandi catene fino ad arrivare ai piccoli negozi di vicinato come le pasticcerie panetterie negozi di ortofrutta ti faccio qualche nome per farti capire appunto di chi stiamo parlando parlando di supermercati ad esempio abbiamo realtà come Carrefour come Conad come Penny parlando di catene abbiamo Alice Pizza che appunto si occupa di pizza romana propone pizza romana è uno dei dei nostri partner passando poi per delle realtà locali conosciute delle piccole gemme locali come possono essere ad esempio la pasticceria di gensomina piuttosto che pescheria cucciuto pandenus insomma tantissime attività di tantissimi ambiti che sono su Tugu2go con l'obiettivo di fare qualcosa di concreto per cercare di contrastare lo spreco e quindi hanno trovato in Tugu2go il partner ideale per riuscire riuscire a farlo e ti faccio una domanda cos'è che magari non ti aspetteresti di trovare su Tugu2go che invece magari neanche voi lo aspettavate invece avete trovato qualcuno che ha messo quel tipo di c'è qualcosa di strano ma guarda ce ne sono tanti di esempi ah non solo uno ah ok ce ne sono diversi esempi di cose che magari uno non può aspettarsi per esempio non lo so trovarsi a fine gennaio ancora dei panettoni perché diciamo rischierebbero di andare sprecati e quindi si preferisce comunque metterli in vendita ad un prezzo vantaggioso in modo che gli utenti possano portare avanti un po' quello che è il mood delle feste piuttosto che ad esempio delle non so delle verdure in una in una bag di frutta e verdura che non che non si sono che non si conoscono o che non si è mai cucinato prima poi invece danno la possibilità di sperimentare nuove cose perché c'è sempre all'interno delle nostre bag l'effetto sorpresa che piace e che dall'altra parte ti dà la possibilità oggettivamente magari di provare anche qualcosa che prima non avresti mai voluto provare e al contempo di trovare nuovi modi anche per poi andare a cucinarlo in casa o par o ad esempio prodotti dell'industria alimentare nella stessa nella stessa box tipo la pasta fino ad arrivare al caffè o piuttosto che il cioccolato questo ad esempio perché introducendo un nuovo progetto che abbiamo lanciato dalla nostra parte collaboriamo anche direttamente non solamente con diciamo le attività e gli esercizi commerciali ma anche direttamente con l'industria alimentare quindi l'unità di salvare del cibo direttamente con le aziende alimentari un progetto che si chiama box dispensa sono acquistabili anche in questo caso sempre sulla nostra app vanno a contenere tutti quei prodotti che riusciamo a salvare in collaborazione appunto con le aziende abbiamo ad oggi circa 64 aziende che già collaborano con noi il progetto sta andando molto bene anche qui stiamo registrando dei risultati molto incoraggianti vi faccio due numeri abbiamo salvato in un anno da questa parte circa 4 milioni 800 mila prodotti per un valore commerciale di oltre 13 milioni e mezzo di euro quindi questo per farti capire come lo spreco sia presente lungo tutta la filiera e come ci si deve impegnare per cercare infatti perché insomma è questa una cosa interessante che appunto se lo spreco c'è tutta la filiera voi cercate appunto di intercettarlo in ogni passaggio di questa filiera e questo che è molto interessante e anche fa capire quello che avete fatto in questi 5 anni non siete rimasti lì a cercare negozi che vi dessero le loro bag ma avete appunto cercato anche di intercettare sempre di più lo spreco in questi 5 anni invece come è cambiata la percezione dell'utenza diciamo del pubblico dei cittadini verso to go to go guarda abbiamo visto innanzitutto che i negozi diciamo collaborano con noi innanzitutto perché non vogliono più sprecare è una cosa che sembra abbastanza ovvio e dall'altra parte soprattutto perché capiscono anche il valore di associarsi a una realtà come noi siamo una società B Corp a impatto sociale quindi cerchiamo di andare a mettere insieme una finalità che possa essere appunto sociale con una finalità economica dall'altra parte gli utenti sono aumentati perché anche hanno capito che si può fare del bene nei confronti del pianeta dall'altra parte risparmiando quindi diciamo che in un periodo in un contesto caratterizzato da aumento dei prezzi caro vita l'ottimo rapporto qualità prezzo che offre la nostra app le nostre bag sicuramente sono stato un incentivo anche all'utilizzo dell'app sapere di poter comprare il cibo ancora buono perfettamente consumabile risparmiando fino a due terzi del valore commerciale è sicuramente un incentivo è interessante anche Filippo perché appunto la sostenibilità anzi diciamo la questione ambientale è anche battersi a volte per l'ambiente così diciamo che a volte è una cosa un po' di nicchia per chi ha i soldi per i ricchi ce lo diciamo effettivamente costa anche l'attivismo se lo diciamo in questo caso invece si risparmia facendo del bene al pianeta quindi cioè veramente win 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 assolutamente dall'altra parte la cosa che mi piace sottolineare è che tra tutti i temi e tra tutti i problemi che possono essere legati al mondo ambientale quindi al cambiamento climatico in atto sicuramente quello di ridurre lo spreco è quello alla portata di tutti in cui tutti con poco con una piccola attenzione quotidiana dei piccoli gesti concreti possiamo riuscire veramente a fare qualcosa e tutti i gesti se sommati uno con l'altro su scala possono arrivare veramente a fare la differenza e a fare in modo che le cose possano cambiare perfetto allora Filippo rimani qui perché è ancora un attimo con noi andiamo con un po' di musica e poi ancora poi per capire appunto cosa sarà nei prossimi 5 anni 2go2go e poi per ricordarci appunto tutte le coordinate per poter seguire al meglio e sfruttare al meglio questa possibilità che appunto nella nostra città abbiamo andiamo avanti con Angelina Mango Angelina Mango con la noia alle 8 e 26 minuti qui su Crystal Radio stiamo parlando di 2go2go 2go2go non è solo a Milano ovviamente sapete che per noi esiste solo Milano ma in realtà è in tante altre parti d'Italia e anzi sono curioso di sapere e attenzione come risponderà Filippo quali sono le regiografie quali sono le città leader nel non spreco alimentare devi dire Milano te lo dico allora innanzitutto parto utilizzo la tua la tua domanda per per segnalarti che lo spreco alimentare la lotta allo spreco diciamo non ha confini geografici quindi quello che noi vediamo è un utilizzo della app in modo trasversale su tutto il territorio ad oggi abbiamo siamo riusciti a salvare almeno un pasto in due comuni italiani su tre quindi oltre 5.000 comuni quindi questo ti dà una diciamo un'idea della capillarità del servizio di quanto questo venga utilizzato dagli utenti entrando poi più nel dettaglio su quelle che possono essere le zone le aree le città più antispreco in un'ottica regionale vediamo che la Lombardia sicuramente dal nostro punto di vista è la regione più virtuosa seguita dal Lazio dall'Emilia Romagna dal Piemonte dalla Toscana per darti la top 5 per quanto riguarda invece l'aspetto prevalentemente cittadino abbiamo che in testa c'è Roma seguita però ovviamente da Milano quindi diciamo che le due città principali più grandi d'Italia si giocano un po' le prime due posizioni del podio a seguire Torino c'è Genova Bologna e poi abbiamo anche delle altre città non solamente grandi metropoli ma anche comunque città medie medio piccole pensiamo ad esempio che nella top 10 abbiamo centri come Modena Verona Padova oltre che Firenze Napoli quindi questo per darti un quadro di come sia in termini di grandezza di città che di posizione geografica diciamo l'utilizzo di Tugutug è sicuramente etereogeneo lungo tutta la è infatti perché hai nominato grandi città ma anche piccoli città diciamo di media dimensione quindi davvero lo spreco alimentare come dicevo è trasversale e la volontà soprattutto di salvare questo cibo è trasversale assolutamente poi guarda grazie anche alla soluzione che ti dicevo prima quella di box dispensa quella di aziende alimentari diciamo riusciamo a essere ancora più capillari offrendo la possibilità di poter salvare del cibo ovunque ci si trovi ci si trovi in Italia visto che queste box vengono consegnate direttamente a casa quindi chiunque in Italia può salvare del buon cibo con Tugutug ovunque adesso si trovi ok allora rimani ancora con noi perché invece voglio sapere cosa succederà nei prossimi 5 anni di Tugutug che saranno poi i primi di altri 5 poi ancora altri 5 ma non prima di aver ascoltato Emma e poi anche qualche consiglio per gli acquisti perché eh sì abbiamo anche quella abbiamo anche la pubblicità qui perché se no non è che possiamo arrivare a fine mese quindi ascoltatela anzi mi raccomando e fate quello che vi dice si può dire non lo so se si può dire questa cosa ma va bene fa niente andiamo avanti andiamo avanti con Emma Pnea poi torniamo qui con Filippo ancora a parlare di Tugutug andiamo avanti Emma Mahmood tuta gold chissà se i famosi cilieni ripieni di zucchero si trovano anche nelle borse di Tugutug non credo però non so hanno fatto i biscotti anche adesso ho visto cioè non so c'era solo una pubblicitaria credo però insomma si trova davvero di tutto è tutto molto buono in queste bag che potete salvare grazie all'app dallo spreco ma lo chiediamo a Filippo Filippo Ferrari PR manager d'Italia di Tugutug allora 5 anni buon compleanno ma cosa saranno i prossimi 5 anni allora guarda in qualità di diciamo leader nella lotta allo spreco a livello globale essendo presenti in 17 paesi sicuramente quello che mi aspetto è che Tugutug continuerà a innovare introducendo soluzioni e tecnologie per contrastare lo spreco come ci dicevamo prima lungo tutta la filiera e consentire a tutti di poter fare qualcosa per poterlo ridurre come dicevamo ridurre gli sprechi è una necessità urgente per la nostra economia e per il nostro pianeta inoltre mi piace pensare ad esempio che un domani quando ad esempio andremo non so a fare visita in Francia in Spagna negli Stati Uniti prendere il telefono prendere il proprio smartphone per salvare una surprise bag possa diventare un riflesso diciamo immediato un'abitudine per tantissimi e se questo riuscirà e se questo accadrà vorrà dire che innanzitutto la sensibilità sullo spreco vorrà dire che sarà decisamente aumentata e sarà più elevata che le persone avranno forse cambiato definitivamente le loro abitudini di consumo verso delle scelte possano essere più sostenibili che i negozi in toto e le attività commerciali avranno capito l'approccio antispreco che è necessario portare avanti e questo vorrà dire infine che siamo ancora più presenti a livello globale e che quindi riusciremo a generare sempre più impatto grazie alla nostra community di partner Filippo ho detto una cosa interessante perché effettivamente si diventa un'abitudine quella di stasera cosa mangiamo aspetta prendo il telefono uguale a cosa c'è se c'è un tugu-tugu qua vicino dove siamo effettivamente poi diventa un'abitudine che ti porti ovunque tu vai perché poi appunto 17 presidi del mondo quindi a quel punto anche se vado in vacanza anche se vado a trovare gli amici da qualche altra parte o se mi sposto in Italia tra una certa e l'altra può diventare un'abitudine abitudine che abbiamo già ad esempio con altre app per ordinare cibo che ci viene portato a casa effettivamente basterebbe diventare diventare un'abitudine quindi è un lavoro anche culturale il vostro nel senso proprio cercando di far diventare essendo una realtà globale poi sai avendo un servizio che può essere diciamo presente in così tanti paesi in modo così allargato anche l'abitudine di essere sempre interconnessi avere la possibilità di poter portare quello che tu fai quotidianamente magari nel tuo paese anche quando sei all'estero penso che possa essere una cosa fatta in più sto pensando potete provare anche cucine diverse sto pensando se io vado a Parigi e voglio una trovo una creperie che mi fa to go to go sono a posto posso sperimentare la cucina francese con to go to go ad esempio quindi effettivamente mi è capitato a me di recente proprio di essere a Parigi è una cosa che abbiamo fatto insieme ai colleghi quindi assolutamente è un duro lavoro ma qualcuno deve farlo come si dice in questi casi Filippo immagino sia la parte più dura del tuo lavoro quella di andare in giro a cercare e a provare le bag negli altri paesi Filippo grazie mille ricordaci le coordinate per appunto seguire scaricare trovarvi e come funziona ti trovate sui social quindi abbiamo tutti i canali attivi su Instagram to go to go per scaricare l'app semplicemente andare su gli store play store o apple store digitando to go to go semplicemente spreco alimentare sarà il primo risultato che vi compare in cima alla lista potete in pochi clic scaricare l'app e procedere a guardare un po' a localizzarvi gelocalizzarvi e vedere quali sono le attività vicino a voi da cui poter salvare del bag e allora salutandoti facendo anche complimenti a colui che gestisce l'asseo dei vostri siti visto che siete primi in Google ti ringrazio davvero Filippo e ci diamo appuntamento allora davanti con una bag una surprise bag la prossima ok facciamo un aperitivo aperitivo surprise facciamo così va bene grazie Filippo buon lavoro e spartate tutti i saluti appunto a to go to go e buon compleanno buon quinto compleanno speriamo di sentirci ancora per tanti altri quinti compleanni a presto grazie ciao andiamo avanti con la musica loro sono i Radiorama con Allianz e qui si fa un salto nel passato era il 1986 e appunto i Radiorama cantavano con Allianz andiamo a ascoltarla alle 8.40 qui su Crystal Radio Good Morning Milano ancora qualche minuto con noi e poi dopo di noi sapete senti questa con Ambrogio Curti il giornale radio insomma Crystal Radio inizia la giornata con noi ma va avanti tutto il giorno mi raccomando e poi potete tornare su goodmorning.milano.it per invece ascoltare rivedere il podcast il video podcast e tutti i nostri ospiti anche l'intervento di Filippo Ferrari di Togo Togo Radio Rama con Allianz alle 8.44 minuti martedì 30 aprile parliamo ancora di cibo perché leggiamo la Corriere della Sera Milano la notizia che arriva a farvi fare suoni tranquilli lo sapete che siete all'ordinanza dopo mezzanotte niente cibo niente alcol niente bevande nelle strade per contrastare la Movida e ovviamente era nato il gelato gate cioè qual era il problema che neanche si poteva prendere un gelato quindi gelatterie arrabbiate gente che non ha mai mangiato un gelato incazzata nera perché poi è sempre questo mi ha ricordato un po' la storia del sacchettino di quello per pesare la frutta che costava due millesimi di euro tutti barricate e quindi anche qui oddio il gelato basta hanno sistemato l'ordinanza Movida a Milano sì al gelato dopo mezzanotte Granelli dice l'ordinanza riguarderà le bevande alcoliche l'assessore della sicurezza ha chiarito che il divieto di vendita e asporto nelle ore notturne non comprenderà gli alimenti quindi anche il kebab posso dire va bene il gelato ma io volevo il kebab dopo mezzanotte volevo fare cornette brioche non si può fare invece Alessia Cappello dice il tam tam mediatico ha danneggiato la città allora Assessore Cappello io le voglio bene come a tutti gli assessori di Milano perché siete di Milano uno due comunque il vostro lavoro lo state facendo bene male poco importa nel senso che ogni tanto si fanno le cose giuste ogni tanto si fanno le cose sbagliate ma in questo caso posso dire non è il tam tam mediatico che danneggia Milano è buttare fuori queste idee così senza neanche pensarci prima è questo il problema di base cari miei assessori prima cosa che sia l'assessorato la sicurezza a dover gestire questa cosa io lo trovo assurdo stato di polizia stato di militare tutto sempre ricorrente alla sicurezza quando invece magari ha più attività commerciali e che appunto è commercio lavoro che è appunto quello dell'assessore Alessio Cappello forse forse bisognerebbe semplicemente capire che la Movida non è un problema to court ma è un problema in alcuni luoghi il nostro amico Lorenzo Masieri lo diceva sempre attenzione che se guardate a vedere le pagine poi i casini per la Movida nascono sempre e solo nei soliti luoghi Raff sei la più bella del mondo 8 e 50 minuti ancora qualche minuto prima di salutarci e dare la linea appunto al giornale radio ed Ambrogio Curti ricordando che oggi 30 aprile 35 anni fa nel 1989 moriva Sergio Leone eh sì ci lasciava oggi nell'89 il padre del genere spaghetti western così viene stato definito da tutti quanti insomma colui che ha fatto scuola e storia del cinema sappiamo quanto ad esempio ha influenzato anche il cinema di Quentin Tarantino che è un grandissimo fan di quel genere e che ha rivisto anche molto spesso l'entieri la rivisitazione di alcuni momenti o scene dei film di Sergio Leone inserite nei suoi nei suoi film insomma appunto nel 1989 35 anni fa ci lasciava Sergio Leone regista che comunque ha trovato grande appoggio anche nel mondo hollywoodiano e stima da tanti suoi colleghi tra cui ad esempio Stanley Kubrick che più di una volta ha detto che riconosceva il genio di Sergio Leone anche Martin Scorsese Clint Eastwood e come appunto dicevo prima anche Quentin Tarantino questo era insomma il cinema italiano quando questo lo si esportava alla grande in giro per il mondo e adesso musica 8 e 56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi di Good Morning Milano non prima di salutarvi non prima di darvi appuntamento anche a quello che succede dopo di noi usate la musica per divertirvi quest'oggi usatela per vivere al meglio questa giornata prefestiva noi domani non ci saremo ma torneremo qui con voi giovedì ma ricordatevi questo che se vedete una scusa qualsiasi per festeggiare oggi così potete vestirvi di arancione e festeggiare il Koningen Dag sì il giorno della regina è in Olanda che si festeggia però volendo se amate l'arancione può essere la vostra festa dicete che il 30 aprile festeggiate anche voi il giorno della regina olandese e invece come vi dicevo noi domani non saremo qui a raccontarvi niente saremo a casa a riposare ma torneremo invece giovedì chi invece c'è oggi dopo di noi ma anche domani è Ambrogio Curti con senti questa come sempre alle 9.05 dopo il giornale radio la grande musica raccontata dal bravissimo Ambrogio Curti se volete un po' di Olanda potete andare nei campi di Tulipani non so se sono ancora aperti credo di sì anche se mi sa che ormai sono un po' andati li avrete già svuotati tutti come minimo grazie a tutti davvero per averci seguito no vi confermo che ad esempio Tulipani Italiani è aperto oggi quindi volendo potete andare ad accogliere i Tulipani grazie a tutti a giovedì buon primo maggio a tutti buona festa dei lavoratori ciao